Perché chi ha un problema alla tiroide può non saperlo? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Ecco, ci sono due fondamentali motivi per cui le persone possono non sapere di soffrire di una patologia tiroidea. Il primo, spesso, soprattutto in caso di ipofunzione tiroidea, non ci sono sintomi acuti che fanno pensare a una malattia, che fanno pensare a un problema. Basti pensare alla patologia ipotiroidea più diffusa, la tiroidite di Hashimoto. Sì, ci può essere stata dell'infiammazione, della febbricola, ma che magari è stata, diciamo così, sottovalutata, è passata da sola e in realtà però il problema si è posto dopo, per gli effetti di questa malattia autoimmunitaria. Quindi pian piano è iniziato a svilupparsi un'infiammazione cronica che ha portato a stanchezza, ai sintomi dell'ipotiroidismo, ma di fatto la persona non ha avuto un problema acuto, non è andata in ospedale, non ha chiesto un, diciamo, un intervento medico. Secondo motivo, molto importante e mi viene da dire anche più diffuso, non vengono effettuati gli esami giusti e soprattutto non vengono interpretati nel modo corretto. A cosa mi riferisco? Quando si studia la tiroide, sapete bene come l'esame considerato più importante, il gold standard, come viene detto, è il TSH. Però la parola gold standard è stata un po' fraintesa e, insomma, ci si è dimenticati di alcune parti della fisiologia della tiroide e del complesso tiroidio. Tradotto, si studia solo questo e se è nel range di rifluidimento, fondamentalmente si dice che la tiroide non è responsabile del problema, quindi tutti i sintomi che magari porta il paziente non derivano da questo, quindi viene indirizzato ad altri specialisti, si dice che è depresso, che deve cambiare lavoro e quindi alla fine si rimbalza di specialista in specialista. In realtà esistono tanti esami che possono studiare in modo più completo la tiroide, tenendo conto del fatto che il TSH, che ricordo è un ormone prodotto da l'ipofisi, quindi da una ghiandola che sita nel cranio ma che non è la tiroide, è una specie di sensore dei livelli di ormoni tiroidei. Quindi se sono troppo bassi aumenta, se sono troppo alti diminuisce, ma è un sensore, è un termostato, non è un ormone tiroideo e quindi bisogna studiare anche altri, diciamo così, aree del corpo umano per avere una visione più chiara. Può essere che sia nei range, negli intervalli di riferimento, questi esami, ma siano, diciamo così, alterati altri esami. Prima possibilità. Seconda possibilità, bisogna poi valutare non solo il range di riferimento, l'intervallo, ne parlerò di questo in un video specifico, ma il valore ottimale di ciascuna esame ormonale. Quindi in questo caso, anche per la tiroide, esiste un valore ormonale ottimale. Il secondo aspetto è che non vengono eseguiti gli esami giusti, non vengono interpretati gli esami giusti, al limite si fa il TSH, si fa proprio proprio un'ecografia e invece il complesso tiroideo è un'area molto più precisa da studiare e bisogna sempre ascoltare il paziente. Se volete sapere come e se funziona la vostra tiroide, quali sono gli esami veramente completi per studiarla, tutte, ribadisco, tutte le terapie in grado di curarla a 360 gradi, potete contattare direttamente la mia segreteria ai numeri in sovraimpressione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!